Ciao ragazzi, buongiorno. Sono qui nella Rotonda di Padre Pio, a Benevento, a pochi passi da Pietrelcina, paese natale di Padre Pio. Questo monumento, tanto discusso negli anni passati, sicuramente particolare, ma comunque un bel monumento, oggi si trova in queste condizioni. Guardate bene, qui a Benevento, pochi passi da Pietrelcina. Guardate, è uno scempio, è qualcosa di inaccettabile. Guardate qui, porte aperte, cavi, muri rotti, sporcizie. Guardate. Qui nella Rotonda che tutti passano per andare, diciamo, a Pietrelcina, o comunque per visitare questi posti. Ma fosse stato anche a New York, voglio dire. Così noi puntiamo al turismo. ecco qua. Niente, rimasto all'abbandono. Fatto e lasciato così. Facciamo qualcosa, è incomprensibile. Facciamolo per Padre Pio. Ciao, da Benevento.